Marco Bodon, Fisaskat CISL, a rischio su 1426 esuberi Oshan per il territorio nazionale, nella nostra città di Padova, 36 lavoratori sono a rischio, dicevamo. Che cosa state facendo? Che cosa accade? Allora, la trattativa a livello nazionale purtroppo coinvolge tutta Italia. Diciamo che il Veneto è la regione un po' meno colpita, anche se gli esuberi purtroppo in una complessività della procedura riguardano anche questi lavoratori. Adesso si aprirà un confronto a livello nazionale, avremo dei tempi tecnici dettati dalla procedura che saranno 75 giorni di discussione. Purtroppo questa azienda è in caduta libera con il fatturato e naturalmente stiamo tentando in tutte le maniere di salvare i posti di lavoro e di tentare poi di riequilibrare i conti economici. L'azienda sta perdendo 100 milioni di euro, purtroppo chiede un sacrificio anche ai lavoratori con alcune dergue anche a livello nazionale. Questo passaggio sarà difficile, tenteremo in sede di trattativa di trovare soluzioni diverse anche se purtroppo i lavoratori qualcosina dovranno lasciare. Eppure è un centro, quello Oshan, in Via Venezia che sembra funzioni. Come mai ci chiediamo quindi a rischio in Padova ai dipendenti? Purtroppo quando la procedura riguarda tutti i punti vendita d'Italia, come si può dire qualche ricaduto, arrivano anche nei punti vendita purtroppo virtuosi come quello di Padova. Per esempio a Busolengo non c'è neanche un esubero, a Vicenza ce ne sono pochissimi, a Mestre purtroppo anche lì un altro numero importante. Diciamo che tenteremo in tutti i modi di salvare i posti di lavoro anche se la crisi è più marcata nelle regioni sud Italia. Possibile magari qualche trasferimento nel tentativo di salvare? Tutto è possibile, non escludiamo nessuno. Certo che non possono pagare il prezzo solo i lavoratori. È ovvio che in una procedura così complessa tenteremo in qualche maniera di ricollocare anche alcuni lavoratori rispetto alle professionalità.